L'arte contemporanea torna a Silvi con il Simposio Internazionale. Noi abbiamo invitato 50 artisti a partecipare a questo simposio di pittura. Mi è piaciuto chiamarlo simposio di pittura perché è un momento di convivialità tra gli artisti. La parola ricorda un po' i banchetti degli antichi greci e romani, quando si cantava, si ballava e c'era questo momento in cui si stava insieme. Ecco, fondamentalmente si deve stare insieme. L'idea era quella di portare a Silvi artisti bravi, qualificati, che vengono da tutta Italia, ma anche da tutta Europa. Ne abbiamo dalla Polonia, dal Libano, dalla Germania, dalla Romania, oltre che da tutta Italia, quindi dalla Campania fino al Friuli, oltre agli abruzzesi che ovviamente hanno aderito in maniera entusiastica alla manifestazione. Bene, dicevo questo, quindi simposio perché era necessario su Silvi far rientrare Silvi in contatto con l'arte contemporanea. Io vedo che, ma non solo Silvi, un po' ovunque si sta creando un certo disinteresse nei confronti dell'arte. Un po' dipende dall'educazione, anche scolastica, che non prevede più come una volta dei percorsi di studio che diano la possibilità ai ragazzi di poter entrare più in sinergia, più facilmente con l'arte, con la visita ai musei e tutto il resto. La manifestazione, iniziata il 28 agosto, mette in mostra tante opere d'arte contemporanea in diverse strutture della città e la sera del 31 agosto si concluderà con una grande cerimonia in Piazza dei Pini. Nel momento in cui noi creiamo delle interazioni con artisti di altre regioni, di altre nazioni, vuol dire che creiamo un contatto, quindi significa che poi anche questi artisti potranno ospitare i nostri artisti altrove e in ogni caso potranno venire qui a Silvi, vedere le bellezze di Silvi, parlarne anche fuori da Silvi e quindi perché no far venire altri turisti a Silvi. Gli organizzatori già pensano alla prossima edizione. Nel 2020 si punta anche all'esposizione delle opere degli artisti più creativi in assoluto, i bambini. Proprio grazie a questo riavvicinamento del nostro paese al settore culturale e artistico pittorico cercheremo l'anno prossimo per 2020 a far ripartire la mostra internazionale di pittura dedicata ai bambini nel trascolare per riesumare quella rassegna di pittorica che veniva fatta ah pensate per 35 edizioni è stata fatta qui a Silvi e noi la vogliamo riesumare, far rivivere.